Napoli abbraccia i bambini di Kiev. Il governatore De Luca apre le porte dell'ospedale Santo Bono per dare disponibilità ai piccoli feriti e invita il governo nazionale a mediare con la diplomazia per la fine della guerra. Abbiamo dato la disponibilità ad accogliere bambini che dovessero avere problemi nel conflitto ucraino nel Santo Bono. Più si allungano i tempi di questa guerra, più ho la sensazione che le operazioni belliche si svolgeranno all'insegna della violenza e del bagno di sangue. Quindi dovremo fare di tutto per arrivare ad una tregua perlomeno per salvare la vita di migliaia di civili innocenti. De Luca parla a Caserta, margine del patto per il rilancio delle imprese volute da Confindustria. L'importanza della sburocratizzazione al primo posto, ma intanto il governatore lancia nuovi strali contro il ministro Franceschini e i suoi dirigenti. Dobbiamo riuscire ad attrarre nuovi investitori. La cosa decisiva ovviamente è il livello di sburocratizzazione che riusciamo a determinare in Italia e in Campania. In Campania stiamo lavorando su questa linea, burocrazia zero. Qualche volta dobbiamo scontrarci con i ministeri nazionali che danno fastidio, a cominciare a quello per i beni culturali. Mi ricordo solo che per esempio per il piano paesaggistico siamo partiti quasi sei anni fa e stiamo ancora aspettando il ministero che si pronunci.